Il turno di Desmo del Zagni, otto dei laderchi, cane giovane, sembra di buone speranze. L'obiettivo è anche quello di fare un po' di palestra ai cani giovani, perché ovviamente a Gottane è sempre una palestra veramente ottima. Il turno di Desmo del Zagni Il turno di Desmo del Zagni